La valorizzazione del territorio e la promozione turistica dovrebbero partire già dalle piccole cose, come la segnaletica stradale. Ed invece ecco che i nomi di paesi alle prese con lo spopolamento, dove sindaci, associazioni e qualche imprenditore si sforzano di fare qualcosa per creare attrattiva, scompaiono dai cartelli, tra l'indifferenza generale. Questa è la statale 303 che collega la statale 90 e quindi il casella autostradale di Grotta Minarda con diversi paesi delle valli dell'Ufite e del Calore, come Fontana Rosa, Paternopoli, Gesualdo, Friggento, ma anche dell'Alta Erpinia, Aquilonia, Lacedonia, Andretta, Bisaccia, lo stesso Laceno, il Santuario di San Gerardo ed il Formicoso. Ve li elenchiamo perché, come le immagini mostrano, sono effettivamente illegibili o in qualche caso coperti dalla vegetazione. Completamente sbiaditi quelli all'incrocio per Fontana Rosa e Paternopoli, più o meno al chilometro 3. Piuttosto loguri anche quelli al chilometro 0, al passo di Mirabella. Immaginiamo i commenti di qualche viaggiatore, magari arrivato dal nord o dall'estero, di fronte a questa segnaletica e che magari ha sbagliato strada grazie a questa segnaletica. Come non definirci arretrati? Ci sono i navigatori, qualcuno potrebbe obiettare, certo. Chi di noi non possiede un'app sul cellulare, ma non è una giustificazione valida per chi di competenza per lasciare nel totale stato di abbandono i segnali stradali. Tra l'altro non è una situazione di oggi. Per arrivare a questo stato la non curanza va avanti da anni, quindi con vecchie e nuove gestioni. E allora occorre una maggiore cura del territorio prima di immaginare e di risolvere il problema della desertificazione sociale con il turismo. Altrimenti corriamo il rischio che i paesi non scompaiano solo dai cartelli.